In occasione della festa dell'unità nazionale e della giornata delle forze armate, il comando delle truppe alpine ha organizzato una serie di iniziative culminate con la cerimonia militare in piazza Valter a Bolzano, cui hanno partecipato le più alte cariche istituzionali locali, delle associazioni combattentistiche ed arma e le rappresentanze di tutte le forze armate presenti sul territorio. Oltre alla fanfara della taurinense, il reggimento di formazione era composto dalla bandiera di guerra e da una compagnia del quarto reggimento alpini paracadutisti e da una compagnia del quinto reggimento alpini. Presenti inoltre un plotone di carabinieri del settimo reggimento Trentino Alto Adige e da due plotoni della Guardia di Finanza. A completare lo schieramento, una compagnia del secondo reggimento trasmissioni e la quinta compagnia di formazione composta da alpini del reparto comando e supporti tattici tridentina, nonché un plotone del quarto reggimento Aves Altair. Alle 9.30 in punto l'afflusso dei reparti sulle note della fanfara e poi gli onori al comandante delle truppe alpine, generale di divisione Alberto Primiceri, che nel suo discorso ha ricordato che ricorrenze come questa servono soprattutto ai giovani a rivigorire in loro l'amor di patria, oggi ben diverso rispetto a quel lontano 17 mazzo 1861 quando nacque lo Stato italiano. Sono stati inoltre letti i messaggi del capo dello Stato Giorgio Napolitano per cui questa nuova società sarà in grado di affrontare e vincere le grandi sfide dell'umanità solo se gli stati sapranno trovare la necessaria unitarietà di intenti e costruire insieme un sempre più rappresentativo sistema di istituzioni internazionali e un'efficace struttura di sicurezza. Mentre nel suo messaggio il ministro della difesa Ignazio Larussa ha ribadito che questa ricorrenza deve servire a tutti gli italiani su un unico territorio e guardare al futuro percependola con un senso di maggiore ampiezza, ossia l'appartenenza ad un'unica collettività, la nuova Europa che stiamo costruendo. Per l'occasione il comando delle truppe alpine ha istituito anche la giornata delle porte aperte in caserma con un'esposizione di mezzi e una mostra fotografica sui lavori compiuti dal secondo reggimento genio sul fiume Talvera nel 1970. Da questo proposito, proprio sui prati del lungo Talvera destro, tra Ponte Druso e Ponte Talvera, la mattinata si è conclusa con l'intitolazione alla truppe alpine di quel tratto di passeggiata. Domenica prossima, 8 novembre, in piazza Tribunale a Bolzano, le cerimonie si concluderanno con la manifestazione Caserme in piazza, una mostra di materiali e mezzi delle forze armate con intervalli musicali e con la fanfara Pozzuolo del Friuli e la banda musicale alpina Ana di Gries.